Vorrei ringraziare tutti gli operatori dell'informazione che sono in Ucraina. Il loro contributo è essenziale e stanno combattendo un'altra guerra in realtà. Perché la guerra dell'informazione da parte di Putin è parte integrante di questa guerra ibrida. Nel caso in cui sono stati sparati dei colpi contro una truppa, in Russia intanto si censura facendo addirittura una legge nella quale si condannano a 15 anni, fino a 15 anni, coloro i quali diffondono notizie non in linea con il regime. E poi c'è un tema che la Russia opera in maniera ibrida, cioè usa le truppe regolari che purtroppo vediamo sui carri armati, usa infiltrati che sono da molti mesi in Ucraina per creare disastri, diciamo così, e provocazioni. E poi usa l'arma dell'attacco cibernetico, cosa sulla quale da molti anni noi siamo consapevoli che la Russia è il primo attore della guerra cibernetica in questo paese, in questo mondo. Quello che fa paura a Putin è certamente la libertà, la democrazia.